Manca poco alla 27esima edizione della Sticcon, la convention di fantascienza che si svolgerà a Bellaria e Giamarina dal 23 al 26 maggio. Star Trek, guerre stellari, Gundam e non solo, giochi, mostre, incontri con attori e scrittori e un premio speciale in ricordo del fondatore dello Star Trek Italian Club, Alberto Lisiero, recentemente scomparso. Un premio che abbiamo deciso di dare da quest'anno a chi si sia veramente distinto per aver diffuso il fantastico. Il primo a cui verrà conferito il premio è Dario Argento per la sua serie di trasmissioni televisive, una raccolta di film, horror, thriller, personalmente fatta da lui. Un ricco programma che spazia dalla scienza alla fantascienza e al gioco. Abbiamo delle zone più tematizzate, la sala giochi dove si possono giocare le versioni create apposta per le nostre passioni, ci sono quelle per Gundam, quelle per la guerra stellari, quelle per il signore degli anelli, per la Star Trek. Per gli amanti invece delle cose serie c'è la sala Jupiter dove si seguiranno gli incontri con vari specialisti nei propri settori a parlare di scienza vera e propria e la convention è un grande gioco. Si può dire che dall'inizio nel momento in cui uno entra si trova in un parco divertimenti.